Il nostro paese è sempre unico al mondo. Bisogna far morire prima tre persone nel Tribunale di Milano e poi verificare tutti i controlli possibili e immaginabili in ogni Tribunale d'Italia e stiamo assistendo che addirittura avvocati veri, avvocati che devono accedere nei tribunali per svolgere la propria attività, vengono fermati o subiscono infinite code fuori dal proprio momento di giustizia, il momento legato alla città di appartenenza. Sì, siamo strani, così come il nostro paese è altrettanto strambo nel dibattere sull'opportunità di avere una lista, di avere dei candidati, di trovare l'accordo completo intorno alla poltrona, ad una poltrona, a tante poltrone, poltroncine mentre la gente muore di fame. Il nostro paese è strano perché fa delle riforme che con la comunicazione sembrano eccelse e poi di fatto stanno anche ulteriormente azzoppando questo paese. Il nostro paese è strano perché sino a ieri si diceva guardiamo al 2018 come scadenza naturale, ora non lo dice più il Premier Renzi, ma sapete per quale motivo? Perché tanto più avrà difficoltà a far approvare la legge elettorale nuova, tanto più si andrà prima alle urne, perché con la sua presunzione, nel senso buono della parola sicurezza, certezza del suo consenso, se la minoranza all'interno del Partito Democratico forza ulteriormente la mano e gli crea ulteriori problemi nella seconda approvazione all'interno della Camera dopo il voto positivo del Senato, lui da qui a 12 mesi si recherà al Capo dello Stato per dimettersi e far svolgere le nuove elezioni politiche, far manbassa dei suoi parlamentari, terminare la rottamazione e non avere più, qualora dovesse conseguire il risultato ampio e vincente, non avere più problemi di minoranze interne. Questo cosa potrebbe produrre? Che coloro che guardano ad un'alternativa a Berlusconi, le operazioni Veneto, Campania, anche Puglia, ci fa ben comprendere che al di là delle regionali c'è un progetto più ampio di creare una confederazione, una nuova aggregazione di moderati di centrodestra non passando più da Berlusconi. Se la politica dovesse velocizzare le operazioni di elezioni politiche anticipate, questo giochetto potrebbe interrompersi o avere dei problemi e forse qualcuno ritornare nei ranghi di appartenenza come coalizione, vedessi per esempio la Meloni. Mentre se si dovesse votare regolarmente nel 2018 questa operazione ambiziosa potrebbe sortire qualche risultato anche perché fra tre anni Silvio Berlusconi avrebbe in ogni caso 81 anni e quindi tutta la volontà di rinnovamento da qui a tre anni si sarebbe anche un po' sfiancata. Vedremo cosa succederà, di fatto noi ogni giorno abbiamo le nostre difficoltà per arrivare a fine mese domani.